Buongiorno a tutti, oggi notizia che trovate sui social in modo particolare, ma anche sulla stampa di questi giorni, la polemica molto forte e dura tra il sindaco sostanzialmente e Fratelli d'Italia, il segretario di Fratelli d'Italia, il signor Penzo. C'è uno scontro duro su un intervento programmato all'isola dei Saloni, un mega parcheggio, una colata di cemento che dovrebbe essere collocata in una parte importante della nostra città, senza che la città, la realtà dei Saloni, ma soprattutto il Consiglio Comunale conosca esattamente di cosa si tratta. E la cosa più grave che abbiamo notizia proprio da Fratelli d'Italia, l'assessore urbanistica che dovrebbe avere competenza in questa materia, non sa assolutamente nulla. Questo la dice lunga sullo stato di crisi di questa maggioranza, di scontro che fino adesso è stato latente, nascosto per piccoli interessi, piccoli vantaggi di questa o l'altra parte. Oggi, e soprattutto nei prossimi mesi dove l'amministrazione dovrà fare scelte importanti, cominciano a evidenziarsi delle crepe pesanti, una rottura di linea e soprattutto l'idea che il sindaco abbia questa modalità di governare la città in solitudine, facendo scelte del tutto personali, senza coinvolgere in primis i suoi partner di maggioranza, ma soprattutto la città che deve conoscere cosa succede sulle grandi strategie cittadine. Se come sindaco sulle grandi strategie cittadine, a parte i piccoli interventi, non ne ha portato a casa nessuna, vorremmo capire esattamente cosa in testa. Il dato vero, e chiudo, è che la maggioranza è a pezzi e abbiamo chiesto come minoranza in questi giorni di fare una commissione dove il sindaco viene a spiegarci esattamente che tipo di accordi ha preso con l'autorità portuale di Venezia sul destino della vostra città. In via Vespucci al Civico 130 da lunedì 16 ottobre apre Ecme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.